Allora, quindi un momento di incontro tra l'ASL e il territorio. Per quale motivo? Per quanto riguarda il nostro Dipartimento e l'ASL di Biella, la promozione della salute e la prevenzione delle varie patologie o comunque dei problemi legati all'inattività sono al centro delle nostre attenzioni. La nostra medicina dello sport opera quotidianamente promuovendo l'attività fisica e lo sport. La cosa importante è che il cittadino, la persona, sia messo in condizione, oltre che di comprendere l'importanza dell'attività fisica quindi di evitare al più possibile la sedentarietà o la sedentarietà eccessiva, comprenda quanto sia fondamentale e importante considerare l'attività fisica e lo sport come una cura, ma una cura non per medicalizzare questo tipo di attività, ma come una cura di se stesso. Adesso cerchiamo di capire meglio qualche dettaglio di questo appuntamento che vuole unire ASL e territorio insieme al dottor Susta, medico in forza della medicina dello sport di Biella. Allora ci spieghi. Tra i compiti della ASL c'è quello di promuovere l'attività fisica sul territorio e promuovere anche gli stili di vita corretti, cioè quelli che producono salute. Nell'ambito di questo nostro compito, per caso, ho letto sul giornale che c'era una iniziativa che partirà nel 2023 che si chiama Terra della Lana, in cui 32 comuni del Biellese si sono già impegnati ad organizzare una serie di eventi sportivi legati all'attività fisica. Da qui è nata l'idea di incontrarci per cercare di costruire, come si dice in gergo, fare sistema, costruire delle collaborazioni ed eventualmente collaborare ognuno con le sue competenze.